Hai un'idea che vuoi presentare al TEDx di Modena? Non la tua storia, non un prodotto, non un libro, ma proprio un messaggio che vale la pena condividere. Inviaci la tua proposta speakerchiocciolatedxmodena.it. Hai tempo fino al 20 gennaio 2018 per candidarti ed essere selezionato come speaker al nostro TEDx. Modena è una città di passione e di ragione. Passione per il cibo, per i motori, per la moda e ragione per attuare questa passione in modo efficace e universale. Tutto questo ha dato speranza e continua a darne e proprio per questo stiamo organizzando il prossimo TEDx a Modena nel 2018 sul tema GIMMYO. Inviaci la tua proposta completa dei tuoi dati assieme a un tuo video di massimo 54 secondi in cui spieghi l'idea che vorresti proporre sul nostro palco il prossimo maggio 2018. Scarica tutte le informazioni su www.tedxmodena.it. TEDxModena. Idea in movimento che vale la pena condividere.